Buongiorno, buon lunedì mattina a tutti voi, inizia la nuova settimana, naturalmente questa è la Rassegna Stampa, siamo in diretta come sempre, come tutte le mattine per farvi vedere i titoli e gli articoli presenti nei giornali, nei quotidiani, ma come sempre iniziamo con ordine, santo del giorno e poi previsioni del tempo, oggi lunedì 25 gennaio, la Chiesa osserva la conversione di San Paolo Apostolo, il sole è sorto alle 7.33 e tramonterà alle 17.07, guardiamo subito le previsioni del tempo che sono molto scarne, c'è poco da dire, come vedete, sereno, poco nuvoloso il cielo, le precipitazioni sono assenti, in lieve aumento le temperature, queste erano le previsioni per oggi e anche domani, vedete, non c'è molta differenza, sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione, le temperature in leggero aumento e la tendenza per i prossimi giorni, i giorni successivi sarà quella di tempo stabile per l'inizio della settimana con un probabile temporaneo peggioramento ad inizio della seconda parte della settimana e quindi insomma, questo è, speriamo che è ancora il bel tempo per manga, però insomma se uscite di presto la mattina, vedete sulle vostre macchine labrina, il gelo, quindi insomma le temperature durante la notte scendono sensibilmente e quindi insomma la mattina qualche difficoltà per ripartire per chi parte la mattina presto. Vediamo i giornali, i giornali sono naturalmente tutte e tre intrisi di carnevale, ieri è stata la giornata di partenza per i corsi mascherati qui a Fano, quindi abbiamo seguito fin dalla mattina questo evento con una diretta, poi nel pomeriggio abbiamo fatto uno speciale che vi faremo vedere questa sera per appunto la prima sfilata dei cari mascherati. Guardiamo come affrontano questa notizia i quotidiani, partiamo dal corriere adriatico, vediamo, ecco, carnevale, euforia collettiva, una marea di gente per la prima sfilata, per gli organizzatori erano 50.000 le persone presenti nel sambodromo fanese di Viale Gramsci, vedete qui i carri, questo qui in alto è uno dei nuovi carri che è stato creato dall'associazione Gomma Piuma per caso, uno dei più ammirati, poi qui in basso c'è Abemus Carnevalen della coppia Vassili-Angherà e insomma è anche nel Paese delle Meraviglie del maestro Ruben Mariotti, però anche altre mascherate, altri carri di seconda categoria, Spiriti Allegri, Tedaghe e il Brudetto, questo che abbiamo già visto anche altre volte, insomma una giornata di grande euforia a Fano e si è partiti la mattina presto con bambini e cuccioli, la mattina era partita appunto con queste due piccole sfilate, sfilano anche gli anziani che hanno meravigliato tutti per il loro indomabile spirito e naturalmente come vi dicevo ammiratissimo è stato il carro novità dell'edizione 2016, Spiriti di Carnevale creato appunto da Gomma Piuma per caso che è questo qui in alto con questo grande pulcinella che si apre e che si chiude, molto spettacolare anche la coreografia. Vediamo il titolo del messaggero, Carnevale, la carica dei 50.000 Fano, successo ieri per il primo dei tre corsi mascherati, tantissima gente, c'era anche una delegazione di Viareggio che è rimasta veramente impressionata per l'allegria e per la fattura dei carri, li abbiamo anche intervistati, sentiremo stasera i loro commenti dal vivo, uno dei momenti più attesi dal pubblico è sempre, come sempre, il lancio dei dolciumi per raccogliere i tanti quintali che vengono riversati sulla folla dall'alto dei carri di prima categoria, ma anche insomma dai palchi e naturalmente sempre il prendigetto, il protagonista da far sì che tutto avvenga in sicurezza, pochissimi ombrelli devo dire, ieri abbiamo visto qualche scatolone, però il prendigetto era sicuramente predominante su tutti quanti. Vediamo anche il resto del Carlino come titolo e come evidenzia questo avvenimento, Carnevale, prima sfilata col botto ed è subito record, 50.000 presenze, vedete qui Cecchini e Seri, il carro che rappresenta il sindaco, ecco qua, quindi con l'antanto di mascherina, sarà il carro del Carnevale, questo e questo qui è il pulcinella illuminato appunto di gomma piuma per caso. Complimenti anche dai viaregini, bello da far avvenire i brividi, erano presenti Simone Politi e anche due maschere tipiche, Ondina e Burlamacco, insomma Simone Politi è un carrista viaregino che ha vinto tantissimi premi in giro per il mondo con i suoi carri ed è rimasto veramente impressionato dall'arte della cartapesta fanese. Questo è il carro della Musica Rabita che come sempre chiude la sfilata e che regala veramente grande euforia e grande magia al Carnevale, il tutto era partito però anche il venerdì, gli uomini nudi, grande goliardia, ma nel 2017 voglio vedere correre Cecchini, questo è il commento del Vescovo. Ancora cronaca però nei giornali, nei quotidiani, naturalmente questa era una pagina che riguardava spettacolo e Carnevale, però la cronaca che riguarda il brutto incidente che è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi e quindi è presente anche questo commento nelle pagine dei giornali. Il resto del Carlino, la tragedia del Curvone è avvenuta appunto nel Curvone sulla Statale 16 all'altezza del parcheggio appunto il Curvone a Pesaro, lo strazio dei familiari dei due ragazzi, il babbo Federico dice sei sempre stato il mio angelo, oggi ci decidono i funerali. Vedete nella foto la macchina come era ridotta al momento appunto dell'impatto. Anche nel Corriere Adriatico viene riportata questa notizia, Federico e Claudio, preghiere e solidarietà agli amici dei ragazzi in campo per aiutare le famiglie, ieri il papà del ventenne al rosario di Montecchio. Ma c'è stato anche un incidente nella giornata di ieri, filotto d'auto in sosta, poi carambola, questo è avvenuto appunto sempre sulla Flaminia e insomma è stato fatto l'alcol test anche al guidatore per valutare il suo stato di salute. Queste due sono le foto dei due ragazzi deceduti nell'incidente. Questo era anche qui riportato nella pagina del messaggero che riporta appunto i dati dell'incidente. Federico e Claudio, lo strazio e la rabbia, un mazzo di rose bianche al curvone, luogo del tragico incidente e quindi insomma momenti drammatici, ricordo sturgente del padre Luca Corsini, sono fiero di te, per me resterai il modello di figlio che tutti vorrebbero avere. e questo era il commento del messaggero su questo episodio. Andiamo a vedere le altre pagine, partiamo dal resto del Carlino dove cita un evento che è avvenuto in Piazza del Popolo a Pesero che è diventata un'arca di Noè. Vedete le tante persone che sono affluite in Piazza a Pesero, sfilano 120 cavalli e tanti animali. Sant'Antonio, la benedizione è un evento per tutta la provincia, naturalmente in sella e non solo. Anatre, pesci, pecole, insomma ce n'era di ogni. Padre Aldo impartisce ai presenti anche molti bambini. Ecco qui l'altro incidente che vi dicevo e che vi ho fatto vedere nell'altro quotidiano. Si ribalta con la panda e non sa spiegare il perché. Ieri pomeriggio in via Flaminia il ferito non è grave, chiesto naturalmente l'alcol test. Continuiamo nelle pagine del resto del Carlino. Si parla di sanità, sempre un argomento estremamente alla ribalta e sempre l'ospedale unico, è l'argomento principale e l'opposizione fa dell'ironia su questo percorso dell'amministrazione Ceriscioli e dice ci fanno rimpiangere Mezzolani. Ceriscioli, decisionista, l'Assemblea dei Sindaci PD ha affidato al Presidente la decisione sull'ospedale. Andiamo nel messaggero, vediamo il messaggero Pesaro, guardiamo le altre pagine, ecco qui spiagge, il titolo di testa, la deregulation dai ristoranti ai cani al mare pulito, nel piano bis il comune predispone tutta una serie di via libera. E poi viene riportata a centropagina una burla che è partita sul web, il vincitore del turista per sempre da 1,8 milioni di euro, congratulazioni sul web, ma era una burla, era uno scherzo, caccia al vincitore e invece non era quello giusto. Fotonotizia dedicata al Carnevale di Fano, per l'esordio boom di 50.000 presenze. Il meteorologo dice il tempo si sta stabilizzando. Bene, confortante la cosa, ancora nelle pagine però del Corriere Adriatico vi faccio vedere quella che riguarda Senigallia, l'abbiamo vista anche in altri giorni scorsi questa vicenda, si parla della bomba carta nel comune di Senigallia, vittima di una vendetta politica. L'ex consigliere accusato di essere l'autore dell'esplosione durante una seduta e qui naturalmente ci sono dissapori tra i partiti centrosilistra che risalgono a vent'anni fa. Avevo sollevato la questione, questo è il commento. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico, questa no, si è intruffolata. Vi faccio vedere quella che riguarda Pesaro, dai ristoranti ai cani, la deregulation del piano spiaggia, questo è l'articolo che affronta il lancio in prima pagina, la versione bis delle linee guida del comune. Sarà discussa stasera a Baia Flaminia e giovedì nel quartiere Centro Mare, i due quartieri interessati da questa disposizione. Ecco, con il via libera a chioschi ed animali negli stravenimenti, l'opposizione si prepara ad affilare le armi. Naturalmente ieri è stata giornata di sport, di calcio, vediamo come si sono comportate le due compagini locali. Partiamo dal Fano, il Fano che cade nel trappolone, così titola il resto del Carlino, subito due palle gol, poi l'Isernia fa solo ostruzionismo e l'arma viene irretita. Alma Juventus-Isernina, 0-0. Episodio chiave è questo, Sivilla si fa parare un rigore dal secondo portiere dopo l'espulsione di Schina. La pagina che riguarda invece Pesaro, vis Pesaro 2, Amiternina 1, la vis tra slanci, errori e paura, poi arriva la vittoria ai rigori, punti naturalmente pesanti. Bene, questa era l'ultima pagina che vi facevo vedere, naturalmente un saluto anche a tutti coloro che ci seguono in replica, durante la giornata il nostro sito e la pagina Facebook per rimanere aggiornati e questa sera occhio alla notizia come sempre alle 20.30. Grazie, buon inizio di settimana a tutti voi.